Il suo nome ormai si fa da diversi giorni. Contatti con Renzi? Con Renzi sono sempre rimasto in contatto. Pietro Echino non si sottrae alla domanda sul Toto Ministri, che lo vede nel borsino per il di Castero del Lavoro. Tema cui ha dedicato la vita e sul quale ha idee molto chiare, messe nero su bianco, in un libro dedicato a giovani e non solo. Quanto lavoro c'è e quanto non se ne vede? C'è molto lavoro, anche se ancora troppo poco, ma basti dire che in Puglia nell'ultimo anno sono stati stipulati un milione di contratti di lavoro, naturalmente moltissimi contratti a termine. Il nostro problema è che chi frequenta i flussi del lavoro reale non frequenta i centri per l'impiego. Nel dibattito a Bari tra universitari, imprenditori e sindacalisti organizzato dall'Associazione Amici di Critica Sociale moderato da Angelo Rossano, non poteva mancare un riferimento al mercato del lavoro troppo rigido, un punto sul quale Chino e Renzi sono in accordo. Io sarò a disposizione sia in veste di ministro, sia in veste di consigliere o ghostwriter del ministro, chiunque questo sia, purché voglia fare veramente le cose che servono.